Alessia Morani è un fiume in piena. In un'intervista il giornale di fatto spiega quali sono i motivi che hanno portato a una sconfitta catastrofica il suo PD Parole pesanti quelle dell'ex parlamentare Dem che non è riuscita a salvare il posto in Parlamento La critica contro la linea diletta è chiara. La Morani lo accusa di aver sventolato la bandiera dell'antifascismo solo per colpire la principale avversaria durante la campagna elettorale mettendo poi da parte la retorica antimeloniana il giorno dopo il voto Un affondo di quelli che pesano che mette in discussione tutta la campagna elettorale del Nazareno fondata e costruita mattone dopo mattone su insulti per l'avversario Ma nel mirino della Morani ci finisce anche Luigi Di Maio, leggete bene questa frase Abbiamo avuto una linea confusa e ondivaga, da contepunto di riferimento progressista a mai con chi ha tradito Draghi a fare alleanze con chi come frato gli anni era contro Draghi e persino contro Finlandia e Svezia nella Nato E con quel bravo ragazzo di Di Maio che con la sua scissione ha affrettato la crisi Dal campo largo siamo passati al campo santo. Insomma, secondo la Morani la mossa di Gigi Noa ha accelerato la disintegrazione del governo e dunque il ritorno alle urne Un ritorno ai seggi a cui il PD è arrivato totalmente impreparato e con una strategia che ha semplicemente fatto lievitare i voti per la Meloni Insomma in casa dei mai tempo di riflessioni, ma di sicuro la Morani può dormare sonni e tranquilli Lei e Di Maio in Parlamento non si incontreranno più